La sicurezza dei treni è prioritaria e su questo punto i sindacati chiedono risposte concrete. Quello che è accaduto a Carnate è riportato prepotentemente in primo piano il tema. L'episodio che fortunatamente non ha prodotto vittime ma che comunque poteva assumere proporzioni gravissime oltre che drammatiche, sottolinea Michele Federe, referente settore trasporti della CIS di Sondrio, ci preoccupa e ci induce a pensare che sulle nostre linee ferroviarie oggi siamo ben lontani dal raggiungimento di standard di sicurezza accettabili. Le indagini nel frattempo stanno facendo il loro corso per chiarire l'esatta dinamica dell'incredibile vicenda. Al di là delle responsabilità che saranno oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, prosegue Fedele, rimaniamo comunque stupiti dal fatto che un treno possa mettersi in movimento da solo percorrendo diversi chilometri senza guida e che non vi sia un sistema di sicurezza che anche mediante l'utilizzo di sensori provveda automaticamente a fermare il treno in assenza del macchinista. Un sistema cioè che anche nell'eventualità di un cosiddetto errore umano possa intervenire evitando conseguenze deleterie, se non addirittura catastrofiche. Purtroppo, a nota con amarezza il referente trasporti CIS, dobbiamo considerare che la gran parte dei treni, in dotazione a trenord e attualmente in circolazione sulle nostre linee, non permette condizioni di completa sicurezza, soprattutto in considerazione della vetustà dei convogli. La CIS la guarda anche al futuro. Auspichiamo che un salto di qualità in termini di maggiore sicurezza possa determinarsi con l'arrivo dei nuovi e più moderni convogli che, stando a quanto annunciato dal dirigente di Trenord Andrea Galletta nel corso dell'incontro tenutosi in prefettura il 28 luglio scorso, dovrebbero essere immessi sulle linee che interessano la nostra provincia al più tardi nel mese di ottobre 2020. Sono treni vetusti, sottolinea Giorgio Nana, segretario del sindacato trasporti della CGL di Sondrio. Hanno tra i 40 e i 50 anni. Al momento non sappiamo se quello che è accaduto in Brianza è dovuto a un problema tecnico o errore umano. Certo è che il tema della manutenzione resta primario. Ci hanno anche promesso nuovi treni, aggiunge Nana. Dove sono? E segnalo per l'ennesima volta, conclude il segretario della FICGL, che in stazione a Sondrio la pompa dell'acqua è ancora guasta e i pulitori utilizzano i secchi per fare il loro lavoro.